In questa mega cassa me lo sento, me lo sento proprio tantissimo 3, 2, 1 Ma bella raga ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi raga siamo qua per shoppare sul profilo di due iscritti Il primo è GXMAT05 Ovviamente lui e anche l'altro che vedremo tra poco non li ho scelti a caso Ma ho fatto un contest qualche giorno fa, non so quando vedrete questo video E appunto lui e sempre un altro hanno vinto E questo contest prevedeva che io shoppassi l'offerta Festa della Luna Però lui mi ha chiesto di shoppargli in realtà l'altra Ti dà più gemme, hai una mega cassa in più, 2000 d'oro Sì potevano anche essere utili ma però anche secondo me francamente è molto meglio questo shoppare questa Comunque saluto Tractor Man 40 me l'ha chiesto E quindi lo salutiamo bella Tractor Man Comunque nella descrizione di questo video trovate i due Instagram di loro due E appunto quindi se volete farci un salto fateci un salto Per il resto raga ha un ottimo profilo lui Perché ha tutti i brawler al grado 20 anche superiore chiaramente Di maxati alla fine ha solamente Bull e Shelly E tra l'altro gliene mancano ben 4 3 leggendari ed Eugenio Quindi quando voi mi chiedete rag sono 10.000 coppie o 9.000 coppie È normale che mi mancano ancora 3 leggendari È tutto normale lì appunto con 12.368 Gli ne mancano addirittura 4 quindi brutta storia Però però gioco parlo con te Su 3 mega casse e Diana Quindi raga procediamo Negozio e pacchetto livello 25 Ok raga eccoci qua Allora 250 gem E vabbè Ora ci sono le 3 mega casse Tra l'altro l'ultima volta che abbiamo fatto sta roba Il gioco mi è crashato Però fortunatamente la supercell ha fissato questo problemino Ma vabbè Allora 3 leggendari Un mitico E anche 2 star power da trovare Dai Niente 256 di oro Piper per 11 Pamper A parte che qua potete inserire un botto di roba lui Ecco 8 bit ce l'aveva ancora molto basso 31 pocio E infine 67 di bokeh non sono male Come bonus ci dà il biglietto dell'evento Seconda mega cassa Dai 6 skip raga 5 Oro Mortis per 12 Brock 13 Dare Mike 31 8 bit 35 non male E 41 stecca Infine come bonus 6 biglietti Ultima possibilità Raga ci credo Ci credo Con questa mega cassa Me lo sento Me lo sento proprio tantissimo 3 2 1 Vai Sto pesce Sto pesce Non c'è uscito nulla Ma che sfiga raga Carl Tic Che vabbè Ci sta Libi Rosa E Jess E come bonus Bigliettino E 8 gemme Eh poca roba raga Poca roba Purtroppo Vabbè o almeno Si è fatto le gemme Qualche potenziamento Ma nulla di più Cioè poteva anche trovare Due star power Manco quelle ci ha date La madonna Comunque Mi sa che sono le 10 Ah ma aspetta no Va deserto delle due Ah con il robottone Qua dai ci facciamo Anche una partita Giusto per Per fare arrivare Ovviamente questo video A 10 minuti Vabbè Mettiamo Mettiamo Boh dai volendo Possiamo anche potenziare Ma vabbè Non so Cosa voglia tenere Cosa non voglia tenere Dato che non ha tantissimo oro Andiamo Allora abbiamo con lo spike Che in realtà ci può Ciao dio No ci sta Ci sta Ci sta Dobbiamo cercare di Papparci noi il robottone Dato che facciamo dei danni Abbastanza importanti Due eh Tanto già tre cassette Ottimo Vedete che come start Ci siamo Uno è anche morto Bella per lui Guarda frate Qua possiamo già ammazzarla subito Se ce la giochiamo bene Sai O forse no Cioè volendo Eh vedi che Volendo in volendo Vedi volendo in volendo Stanno accadendo cose Però Mi sa che non sa da fare Raga Mi sa che non sa da fare Purtroppo il robottone Non è qua Oh dai si Si bro Ti vedo carichissimo Purtroppo io non ci arrivo Madonna Non ci arrivo bro Si bro È morto Dai Aspetta Sì Dove sei Eugenio Eccolo Morto Dai Ok Il primo team è andato E abbiamo anche 5 power up Che non sono male L'unica cosa è che Sti qua che si stampa Appando il robottone Potrebbero essere belli Potenziate Eccoli Oh mamma Oh Abbiamo distrutto Si bro E' andato Ci prendiamo i power up Sapete Bull qua potrebbe anche andare a morire Se lo fidiamo Per venino Si bro Vai che lo rallenti un sacco Vabbè ragazzi Sandy Burger Sta facendo tutto lui Grande bro Mentre gli altri stanno qua Oh è da solo questo spike E dai Abbiamo pure il robot Leon Leon muori Leon muori Leon muori Leon è morto Leon è morto Raga Biondini è proprio che è morto Cazzarola Mi è morto anche il mio amicone Però guarda quanti bei power up Dei che abbiamo Eh però Eh però Eh però Beh però Beh però Beh però Occhio eh Occhio E io ne ho 13 Che sono un botto Però Ecco Il robotone Papparselo adesso Forse non era proprio La cosa migliore di questo mondo Ti dirò la verità Potrebbero Eh potrebbero esserci Dei bei problemi Di natura tecnica Se Eh raga Non posso far niente Eh vabbè Ripperotto Peccato Eh il robotone Se te lo pappi In sti casi È un bel dito Però Bel più set Raga va benissimo Poi poi raga Io direi di andare Nell'account Dell'altro ragazzo E ci becchiamo là Ok raga Eccoci qua Sull'account Dell'altro ragazzo Si chiama Scotti Pippen Anche lui in realtà Di coppe È messo bene A 11.034 coppettine Se guardiamo Con i trofei Vabbè sicuramente Ne ha molti Mineral 20 Però linea generica Più o meno Le ha tutti Sopra le 400 Quindi gg per lui Allora Lui ne ha 26 su 28 Ecco sta messo Un po' meglio Rispetto a quello di prima I mancano Spike E le onna Di maxati Ne ha diversi Quindi possiamo trovare 2, 4, 6, 7 E la madonna 9, 11 11 star power Quindi ho Due brawler E 11 star power Gioco per favore Qualcosa dacci Comunque lui Andremo a scioppare Il pacchetto Festa della luna Ovviamente Allora in questo caso Visto che prima Far la partita dopo Ci ha portato male Allora Qua volendo Ci sono tre casse Ok tu vai lì E io vado da queste due Mi sembra Una bella idea Sperando che non arrivi Nessuno Ma direi che A voglia Ottimo Regà E tre power Appet Ce li abbiamo Guarda Se riusciamo a papparci Il robot Noi Potrebbe essere Già una bella cosa Anche ammazzare Questi è una bella cosa A voglia È una bellissima cosa Te lo dico proprio Col cuore È proprio una bella cosa Però siamo in un Semi panino Tipo Ashpeed Ashpeed Piper Parliamo di un altro Ok direi che Voglio andarsene E bro non è che riesci a tornare su Magari Bro vieni su che sei in un panino Vabbè raga è stupio Vabbè ragazzi Vieni qua Paolino Vieni qua Paolino vieni qua Non ce l'hanno con noi raga E che abbiamo fatto di male Per il momento Almeno ci siamo allontanati Dal team di destra Sì bro Sì bro Fai che muoiono anche loro Sì bro Mi è piaciuta sta mano Messa così Ok Si è messi molto bene Eh raga Adesso non so dove sia il robottone Però questa Viber Mi sembra Ah no ne ha quattro Scherzato A voglia A voglia zi A voglia zi Direi proprio a voglia Trascinati anche il robottone Tanto dovremmo vincere comunque Vabbè siamo bassini di coppia Ci sta Diciamo che ci può anche stare Ciao Dai rego Bel primo posto Tranquillissimi Spensieratissimi E via Raga è arrivato il momento Aspetta intanto qua Abbiamo detto 2 4 6 8 9 10 11 11 star power E 2 brawler Dai Negozio Confido in te gioco Dai Ok raga Dovrebbe avermela data Esatto 100 gem Sono 2 mega casse E ah è vero C'è anche l'oro Giusto Vai 6 skip 6 skip 5 skip Madonna dai Ma non possiamo non trovare nulla Dai 16 boss 16 rosa 15 genio Possiamo portarlo su Dai 30 penni E 39 carlo 2 ticket E 8 gem Che non sono male Dai Questa Regà È l'ultima O adesso O mai più Vai Mai più Niente raga 5 mega casse Non abbiamo trovato un merito K 13 di quello 15 di Bo 32 di Pam 41 Jesse Eugenio 66 Infine tra ticket Che schifo Che schifo Però attenzione abbiamo anche una cassettina qua gratuita Forse anche dall'altro c'era ma non l'ho aperta Non lo so Non c'è fatto caso Comunque anche qua Figurati se trovo qualcosa qua Ma poi raga niente Andate come è andata E niente Mi raccomando Ne state sintonizzati Perché ce ne saranno altri di contest Quando usciranno altre offerte di questo tipo Quindi Noi raga come sempre ci vediamo alla prossima con un nuovo video Voi iscrivetevi Campanellina Sapete già tutto Anche un bel like Mi raccomando Sempre e comunque Noi spicchiamo magari per un nuovo video Bella raga Ciao 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 Ciao